Questa è una bellissima pianta da frutto, è primavera, farà dei bei frutti nei prossimi mesi, è proprio la cosa bella della primavera. Adesso avrà 4 anni e quindi sono le prime fioriture, mi sembra che sia la seconda fioritura che ha questa pianta, carina, sempre bella, la natura è molto bella. Grazie.